La prossima ospita che lei donna, che lei in prima linea con il suo impegno politico a sostegno dei diritti delle donne, da sempre molto fiera delle sue origini campane, la ministra per il sud e la funzione territoriale, Mara Carpagna. Grazie, grazie per la vostra tecnologia, per il nostro entusiasmo, per la vostra participazione, questa è una sfida migliore per iniziare al meglio questa battaglia per l'Italia, perché sono sicura riusciremo a trasformare in una sfida vigente e sono anche la migliore risposta a chi, fino a tra queste settimane fa, dicevamo, non siete nati, ma cosa vi siete di successo? Rassegnatemi, costruire il nuovo coro in Italia? Sì, e invece noi non ci siamo rassegnati e siamo qui a festa alta, comunità, orgoglio, comunicazione e iniziamo il terzo coro di un'altra vita, di un'altra vita, di un'altra vita, di un'altra vita, di un'altra vita e di un'altra vita. potranno trovare a differenza quegli italiani che credono nella politica, ma che preganno giustamente dalla politica serietà e competenza. E non ci siamo assegnati neanche di fondo dall'irresponsabilità di uomo mediocre, quegli uomini che hanno mandato a casa Mario Grado, soltanto a tutti gli uomini che hanno mandato a tutti gli uomini, con l'infanzione all'esterno. E allora siamo qui anche per tirare la frase che Carlo Carelli ha definito qualche giorno fa, indegna nella politica italiana, è una fase che ha imprimito e ingannato milioni di italiani che continueranno a farlo se voi, voi, non saremmo capaci di fermare. Nei ultimi cinque anni abbiamo visto di tutto, abbiamo visto partiti come il Movimento 5 Stelle, abbiamo governato, governato malissimo, indifferentemente con lo stesso bene, prima con la Lega e poi con il Partito Democratico. Abbiamo visto partiti come la Lega, che nel vento dell'aggressione l'Italia, ci sono fatti organizzare e pagare, dall'Ammasciata, l'Ammasciata, 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 l'Ammasciata. Abbiamo visto che abbiamo visto che abbiamo visto che abbiamo dovuto vedere in Italia e si dichiarano più occupi come degli elettori di interesse nazionale, ma nel momento più buio dell'Italia, nel pieno dell'emergenza Covid, con la situazione economica disastrosa che avvamo, significare una mano al governo di San Vecchio nazionale se ne sono stati scomodamenti dall'Ammasciata per cavalcare la protesta e per lucrare qualche Stato in più per il Consiglio nazionale. Questo è quello che abbiamo visto. Abbiamo visto una soluzione politica e politica che è capace di diventare grande, di fatturare, di pensare che prima il Presidente del Presidente del Presidente del Ministro e poi il Presidente del Presidente del Ministro e allora noi stiamo qui per dire ai italiani che è vero, di essere davanti a un gruppo. Ma non è il video tra la destra e la sinistra, come voglio farci credere virgolette Giorgio Ioni, è il video tra due diverse visioni in Italia. Da un lato c'è il gruppo di noi, vuole costruire l'Italia, costruire il senso di tutta la Germania, che cresca con la Germania, e che è simile, lo abbiamo fatto in tutto l'unico in Italia, che è cresciuta per tutta la Germania. Grazie a tutti per la Germania. Grazie a tutti per la Germania. E' una struttura. E' una struttura. Vogliamo evitare la Germania e le altre persone si può fare, l'abbiamo fatto. Abbiamo evitato il processo di dapposti di lavoro in più, grazie ai diseggetti del governo non vogliamo evitare la Germania dei 10.000 euro a 18 anni, come a Vico Letta, come la rete di una volta. Vogliamo che l'Italia si riprida il tasso di Avere, si può fare, l'abbiamo fatto tagliando 8 milioni di euro in tasse. Non vogliamo l'Italia che inganna gli elettori promettermi un'affattativa da 30-50 milioni di euro che si casserette per i pubblici. E vogliamo l'Italia che sia presa te, della sua grandezza, che scappia quale è il suo ruolo del mondo, come paesi di testa dell'Unione Europea, al fianco della Germania, al fianco della Francia, alleata agli Stati Uniti dell'America, non vogliamo l'Italia che guarda la Russia, che stringe all'ordine con la città e che mette in discussione, e non avanza colpi di bambini, e vogliamo l'Italia che guarda il sud, con rispetto, che considera il sud, non come la causa testa dell'unità italiana, ma come la società di crescita, che è tutto l'unità di crescita, che è tutto l'unità di crescita, che è tutto l'unità di crescita. Mi hanno fatto in piedi del mondo la foto di Sabine e di noi qualche giorno fa abbracciati sul lungomare di Isina, perché per loro Isina ha rappresentato tanto tu che risponde l'unità di filosofia, e non c'è nulla di male, per carità, però c'è una differenza, e la differenza è stata il fatto che per noi, un anno fa, Messina ha rappresentato il primo, ovvero il bambino di Europa dell'efficienza del governo, perché a Messina c'è ancora un grande baracopoli d'Europa, e noia che ha iniziato a smarrare l'altro, per noi è stato un anno fa, 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 è stato un anno fa, 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 sono stata quella presentata in generale definitivamente la seconda, ma sono qui e concludo anche perché io sono a cambiare. Da cittadina io sono profondamente cambiata per quello che è stato fatto al mio paese, perché non si danno a casa un governo in cui lavora. Se ne andava bene, 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 se ne andava bene. La presenza di Mani Draghi a Palazzo Ficina sosperta verribilmente come se io soffissi la presenza di Ursula von der Leyen alla presenza della Commissione europea. Questa è la catacomia, l'idea di nuova sigamica che è normale a questo paese e allora a Giuseppe Conte, a Giorgio Aviloni, a Matteo Savini, noi diciamo no al vostro gioco al passato, lo contro l'Italia, noi non ci stiamo. Avete visto il rischio l'Italia per questa crisi? Non ci riuscirete una seconda volta perché ogni voto dato a Nazione, ogni voto dato a Italia Viva, ogni voto dato a Palenna sarà un argine. Contro la vostra irresponsabilità è un muro contro il vostro scarso sempre per lo Stato. Grazie. 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 Grazie.